Se stasera sono qui, nel bene e nel male, lo devo a te, perché io devo tutto a te. Grazie, Vabbè, sì, certo, stavamo insieme, quindi c'era il direttore del generale che aveva una passione per me. Allora io la trasmissi, disi, guardi che c'è questa signorina, facemmo un programma che si chiamava Di Prova, che si chiamava Compagnia Bella. Sì, dove tu non apparivi come autore. Non apparivo, ero autore, secondo me. E tu riempivi lo schermo, si vede subito che lo schermo era tutto uno schermo, eccetera, e quindi Agnes mi chiamò e diceva, ma tu che pensi di quella tua fidanzata? E io dissi, va benissimo, secondo me, e così partimmo col fatto che dovevi essere creato. È vero, Compagnia Bella, sai che c'è un pezzetto, c'è un filmato, te lo faccio vedere subito. Però ti voglio dire una cosa, tu ieri hai fatto un sacco di pubblicità, gli spot c'erano straordinari, e io ho dovuto fare degli scongiuri perché tu ci sarà anche lui, 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 quindi sempre... Scusate, ma abbiamo lo spot che ho fatto? Sì, e io ogni volta ho dovuto fare... Dai, no, perché? Ma io l'ho trovato uno spot molto... C'era la canzone mia dietro. Scusate. E tu, beh, ma la gente non riconosce la canzone mia. No, la canzone era tua, io ho fatto... E poi ci saranno questi, e poi ci sarà anche lui. Ho detto, stai un po' in buona compagnia perché là... Ma non eri così? Sì, no, vabbè, siccome... È perché la musica veniva dall'alto, e allora ho detto... Ho capito. Perché la musica veniva dall'alto, e allora io ho detto ci sarà anche lui. Lo so, lo so, vabbè, 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 insomma... No, ma stai bene adesso? Sì, insomma... È la prima uscita che fai dopo due anni e mezzo? Sai che tutti mi dicevano... Non ancheggio più come una volta, no? No, ma balli ancora come una volta? Ballo. Balli? No, porto il tempo con la musica, con la cosa... Beh, amore, lo sai che ti trovavo in bagno quando ti facevi la barba, che mettevi la radio a palla e ti vedevo che ballavi da solo, perché lui si è sempre vergognato di ballare. Lui non... Perché non ballo come un nero, io dovevo ballare come un nero, quindi... Però ti chiudevi in bagno e io ti beccavo sempre che ballavi da solo. Vabbè, facevo delle mosse di presa a New Orleans. A New Orleans hai ballato. Allora, vogliamo vedere un pezzettino. 1991 e Compagnia Bella. Ed era proprio una puntata dedicata a te, a quelli della notte, io credo, no? È quello? Ah, sì. Ditemi se... Cos'era? L'altra domenica. L'altra domenica. Perché la ragione sociale di Compagnia Bella era il derby, i giovani, eccetera, e poi quelli di... Vabbè, i vari... Era un programma. ...e varie compagnie che facevano... E c'era anche un'altra idea carina, che poi è diventata un'idea... Gli altarini, gli altarini, me lo ricordo benissimo. Cioè, scopriamo gli altarini, c'era un altarino... Quante puntate erano, te lo ricordi? Eh, questo non me lo ricordo. Sai perché non te lo ricordi? Perché le puntate potevano essere forse nove o dieci, perché alla sesta puntata tu mi hai mollata e non sei più venuto, non hai più lavorato al programma, non hai più fatto l'autore. Ebbè, se dobbiamo scoprire gli altarini, te li scopro io gli altarini. Ed è meglio che non dico di più. Vediamo un pezzettino. Scherzo, amore. Buonasera. Buonasera a tutti. Questa settimana partiamo subito con la sigla di questa famosissima trasmissione che andò in onda nel 1976. Renzo Barbone! Perché? Perché sei qui? Perché sono qui? Perché sei stato scelto come portavoce di questo gruppo, di questa sera? E questo è veramente un'allegra compagnia, eh? Sì, è una bella brigata. È stata la prima bella brigata della televisione nostra. Fatti là, fatti là, fatti là, fatti là, fatti là. Fatti là, fatti là, fatti là, fatti là, fatti là. Fatti là, fatti là, fatti là, fatti là. Che beh! È una bella brigata.